5, piano piano Vuoi provare su quello? Vabbè, tanto l'altro sai dov'è Guarda, sto entrando pure io Tanto c'è gente italiana, se la becchiamo volendo possiamo spostarci in chat gioco Cioè se la, intanto becchiamoci e rimaniamo in party Poi se becchiamo gente italiana, boh sti cazzo, andiamo un attimo in chat gioco e ne parliamo Perché lui ha aperto il server, però diceva che se ci sono degli eventi Chi era dentro il server veniva cacciato fuori, ma che senso ha Perché non è nella whitelist Ah sì? Mio Dio Ho le braccia a pezzi Vediamo se mi fa suicidare con Con tutto, ci ho provato altra sera Con l'iniettore di epinefrina Ah no, non credo No, infatti E vedi, lui è proprio Frank Mazzoni Come mi faceva strano? Se tu vuoi vedere gli ultimi video di una settimana fa Ah no, su Dez PS4, hai ragione, PS4 Ma è PvP, cioè nel senso Sì sì, è PvP Eh, io mi faccio ammazzare Oh, chi è? Chris Si sta sparando No, no, poverino è entrato ora Chris Ample 95 Aspetta, sta parlando, arrivo Allora Allora Arrivo, aspetta un attimo Ah vai Allora Diz Diz va Grazie a tutti 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 Il caffè lo da Dau, poi. Che ragazza. Sì, sono qua, sul duvano. Allora, facciamo una cosa. Ok, ragazzi, ma ragazzi, allora, spostate. Beviamo, puliamo l'acqua e poi partiamo. Cioè, partiamo qua in zona. Impostiamoci in tutta. Devo provare, sì. Zombie? Ottimo, ottimo. Ce ne ha raggiunto un altro, cioè. Ecco, frissi. E l'altro, eh? Amedeo. Sì. Allora, quando vi appare l'icona dello stomaco, smettite di bere. Chi è che hai impensato, raga? Io, 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 sono io. Ok, qua, giusto? Sì. Ok, fra, aspetta un attimo che ti do, ti do la tetra. Sì. Ok, ragazzi. Sì. Sì. No, non ce n'è, non ce n'è. Aspetta un attimo. No, non ce n'è un po'. Ok. Cos'è? A posto, ragazzi. È tetraciclina. Ah, di nuovo? Ah, io l'ho posto. Eh, sì. Eh, no, lo so, lo so. Però il discorso è che è meglio prevenire che curare. Se la prendi, ti già sei prevenuto a dire. Questo non è un po' di niente. Questo già non è un po' di niente. Sì. Sì. Una torcia elettrica. Fino? Sì, è una specie di battle royale a cazzotti. Eh, esatto. Ma le maniere da recuperare il cibo per andare avanti. Perlomeno per arrivare alla città, eh. Eh, ma tanto non puoi mangiare se ti prendi la malattia. Eh, Tony. È proprio qua. È proprio qua. È bello, Aldo, grande. Ne l'hai fatta, aspettava un po' di tempo. L'è, Torrici. Tove, dove? Io sono. Io stavo ad incontrarlo, Tony. Io sinceramente non ho calzato all'idea di sentire Frank che è la prima volta che ho parlato di tutto una volta su GTA e ho fatto un evento con cui mi piacerebbe... Se qualcuno ha un coltello... Non so ne sarni è stato. Eh, vabbè, dai, prendiamoli. Ok. Eh, niente, spero di conoscerlo. Lo stengo praticamente da quando ho comprato il gioco per giocare con lui. Allora, ci siamo? Eh, sono tre e mezzo, Aldo. Ah, ma... Però ho capito, ormai Kiernapp se la conosco a memoria. Eh, chiaro, chiaro. Eh, beh, beh. Ok, ragazzo. Sì, 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 qua. Qui, lì, qui. Scusa, non è tutta BVT la mappa? Eh, a quanto pare ci sono degli orari PPP. Eh, per non fare casino, questo non lo vedete sul gruppo. Ora vediamo se... Regolamento. Eh, io, io non ho, io non ho, io non ho Instagram. Eh, sì. Allora, facciamo... Orari ride? 24 ore su 24 dal lunedì a sabato. Ottimo. Facciamo se oggi che può fare. Non parla di ora di TV, TV più bloccato dalle 18 domenica. La divisione. No, no, no. Ok. Ragazzuoli, cominciamo a muoverci, che dite? No, no, no. Sì, siamo tutti, no? Sì, però... Allora, io sento tutti tranne... Chi è? Amedeo. Sento tutti tranne Amedeo. Amedeo, se ci senti, fai un salto. Eccrocianze. Poi, sul gatto. Poi, sul gatto. Poi, sul gatto. Poi, sul gatto. Eccrocianze. Perché tanto sto morendo de fame. no vabbè ma lascia perdere tanto ormai ho mezza vita buone si arrivo fì eh ma di qua non si esce vabbè si esce si chi è il tipo lì che corre ah eccoci si dai 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 si vai vai che è fatto ma tu ti ha costruire il sopporto per poi lasciarlo abbandonato eh beh dopo emergenza covid praticamente eh hanno un po' abbandonato tutti chi per lavoro chi per il mare non so ma però c'è n'è gente eh macchi 97 è un amico lo conosco chi per 78 ok ok aldo andiamo dai ragazzi è una bella città più avanti ma vediamo una città più inizia non so basso no 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 per il cibo e l'acqua, anche se lo scoraccio, ottimo, sì, infatti, eccola, l'acqua, sì, 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 vabbè, non è tanta monta mia, perché voi non avete fatto mai i pvp con un po' così, rai? Io, io lo adoro, io pvp, cioè, nel senso adesso io sono entrato proprio in WAP anche su server, però io sono da pvp, nel senso amo il movimento, sì, abbiamo, ho conosciuto Filippo oggi, scusami, 32, 32, scusami, e tu sei Aldo? Aldo, Aldo, sono l'87 di dicembre, cioè, 33 ne faccio, sì, no, comunque Filippo mi ha trascinato, mi ha trascinato in questo server, io ero in uno server molto dinamico, molto, infatti sto valutando, è in un server straniero, però era su Livonia, ma è molto, 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 molto dinamico, tanto pvp. del programmi. Magda che. Ho scus과,AST-IO? A presto, è Beltani, Marko, circumstantemente trame app measurementati, devocriere uso lorenzo catalta compl П sento provare, quindi si pvirere es placed da venire, son ... ... ... Grazie a tutti Chi è qua con me? E io sarò l'abolizio I zombie hanno qualche cosa di cibo Adesso sparo qualche zombie in testa Così vediamo se hanno cibo Grazie a tutti Aspetta aspetta Che ne ammazzo un po' Vediamo se la cosa deve buttare Non c'hanno un cazzo No guarda io Aldo Io sono per il pvp Cioè a manetta Questo server è molto Gente che sa giocare È straniero Cioè francesi, spagnoli, russi Inglesi Ho giocato su un roleplay italiano RHM Survive Italia Ma noi giochiamo su un server Di gran C'erano clan Prima stavamo qua C'è tanta notà Quando il culo era Più o meno Giocabile Perché andavano tutto Ma perché andò tutto a fanculo? Ma per la gestione del server Perché a un certo punto Sono state delle Selezioni comuniare Che ci stavano insieme Ma c'era di più I disini Se ne vedete come Che non esistevano Insomma sai che Le comuni Poi vanno sempre così Si crea un po' L'antagonismo Che cosa Sto Guardi Qua c'è un caban Chi lo vuole? Io ho perso gli alberi Non so dove siano Con la squadra 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 Ah uno è qua davanti Io comunque sto morendo Che devi mangiare? Sì Ho trovato una vera marcia Oh ragazzi Dei semi Se trovate un piccone Una pala Piantiamo i semi Ma questa che città è ragazzi? Bu Non vi so vor Non vi so vor Ah no vi siamo Ah no Non vi so Nessuno ci ha da mangiare Questo Questo altro ragazzo Il der Il der Il der Ah mi mangio i semi Se volete No i semi Non vi puoi mangiare Ma porca questa Ciao vita Ciao 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 Eh ma qua mi sa che è già stato luttato Vedevo un ragazzo con la Cosa c'è qua? Oh un fungo No Ho trovato un fungo Eh c'è un fungo Ma Maki Non lo so Eh ma Maki è un amico di vecchia data Lo conosco Io sinceramente Io sinceramente non Cioè è qua? Sì Ah bene Ah bene Ottimo Buono 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 Ah io comunque sto Sto decisamente Morendo Non mi auguro che vi abbia scelto Mi auguro che vi abbia scelto Chi è rieo? Chi è rieo? Chi è rieo? Ehm Maki Hai cibo Ah come hai preso la pistola in mano? Guarda che non va bene No no Scusate no Non gli conviene Scusate Vabbè ragazzi Io vi dico una cosa C'è quella questionante Sparate io Non me lo faccio ripetare due volte Oh i fiammiferi Ottimo I fiammiferi Buono Buono Vabbè E i semi di pomodoro Questi li prendiamo pure Li ho presi io Bene Sì alzono Sono Anche Filippo mi ha appena conosciuto Cioè oggi Sono un guerrafondaio E quindi Io per quello Che vorrei pulire Eh Ma dobbiamo rimediare da mangiare ragazzi Eh ma tanto Totenete Luttatemi Perché Allora ragazzi Luttatemi Oh ragazzi no no Luttatemi Fermi 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 Secca Prendete le armi Prendete quello che volete Tutto Io non vedo di stampa Ma lì? Sì 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 Ah mi sa di mare Intanto sei troppo vicino Niente Vuoi fargli il latte? Vogliamo fargli il latte? Lo vado a fare Latte? Eh ma per la piccola E allora niente E allora niente Tanto che ore sono Quindi si mangiai 5 C'è un'altra La più forte Aspetta Aldo Aspetta Vultatemi Aldo Aspetta Soppa 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 Io penso che si serve Per essere un po' morto Sai Boh io non lo so So solo che Appunto con Filippo Adesso che ci siamo appena conosciuti Eh Ah io sono senza vita Non so se ti conviene No 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 Filippo Filippo No 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 Lascia io Tanto sto muorendo Filippo ah forse si sta non so se ce la faccio riprendere vita quindi abbiamo willy, chris, aldo, chi manca? no sono qua no no, siamo tutti no, io ma qui zna il squadro, non so poi ecco ma, andiamo allo avuto abbiamo perso eh ma ma dovete messaggio su WhatsApp perché mi hai ucciso? oh Dio Ma Fili Solo per curiosità Perché io tra poco non so Tra quanto stacco Quel server Hai messo tra i preferiti No perchè non ci sono arrivato a vedere come si chiamava Ok Beh limite mi mandi un messaggio Do tu BZN dai Ma Dico e qua stiamo a 9 Ma Guarda Facciamo questo ragazzi Come faccio dal gioco secondo voi Dal gioco mi sa che non si può fare E dal gioco mi puoi fare Vogliamo andare a studi? Ho perso Ciao Oh 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 Grazie a tutti.